Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Benvenuti ai programmi per l'accesso insieme al Corico, il Comitato regionale per le comunicazioni, organo del Consiglio regionale del Piemonte. Ricordiamo che i programmi per l'accesso sono un servizio gratuito a disposizione di associazioni e organizzazioni del terzo settore che ne facciano richieste. Quattro volte l'anno c'è la possibilità di avere cinque minuti sullo spazio televisivo RAI e cinque minuti sullo spazio radiofonico. Ricordiamo che il Corico è particolarmente ricordato per la sua funzione principale, attività delegata dell'autorità per le garanzioni e le comunicazioni, che è il servizio di conciliazione tra utenti e compagnie di comunicazione. Abbiamo fatto crescere esponenzialmente l'attività di conciliazione nell'arco di questi cinque anni, partendo da 5.000 conciliazioni l'anno, arrivando a un picco di 12.000 conciliazioni. restituendo agli utenti piemontesi fino a 3 milioni di euro l'anno, oltre a tutto ciò che viene stornato dalle fatture. Ma il Corico non si occupa solo di questo. Sono tantissime le attività che sviluppa il Comitato regionale per le comunicazioni, tra cui la tutela dei minori e anche il servizio sui media. Passerei però la parola al commissario Vittorio Del Monte, che ci spiega qualcosa di più proprio in merito al servizio di conciliazione. Sì, grazie Presidente. La conciliazione ormai è gestita in termini totalmente digitali. L'Agi con l'autorità di garanzia, da cui noi siamo delegati come organismo regionale per la gestione delle controversie telefoniche, ha introdotto la piattaforma concilia web che consente ad ogni utente di gestire in via totalmente digitale attraverso strumenti semplici, come lo smartphone, la sua istanza per ottenere un accordo di conciliazione con le compagnie telefoniche che ovviamente esprimono la loro collaborazione in questo sistema che funziona perché vi è collaborazione tra utente, compagnia telefonica e organismo regionale Corecon che gestisce la pratica e la procedura. Questo è stato molto importante in questo momento così difficile per tutta la nostra società, in questo momento di pandemia, perché la gestione attraverso una piattaforma digitale ha consentito di non perdere quei livelli di efficienza e di numeri che il Corecon Piemonte ha sempre gestito. Quindi anche in questo momento storico il numero delle controversie telefoniche che hanno raggiunto accordi di conciliazione è rimasto costante e di altissimo livello. Grazie all'Avvocato Del Monte. Passerei invece la parola alle Vice Presidente Avvocato Geruca Nargiso proprio per raccontarci delle attività che noi abbiamo sviluppato a tutela dei minori, due in particolare, una sul cyberbullismo e un'altra su disinformazione e fake news. In particolare sul cyberbullismo, ci può raccontare Avvocato di cosa ci siamo occupati? Sì, intanto diciamo grazie al Consiglio regionale che ha avuto la sensibilità di varare una regge che ha ampliato i poteri del Corecom e quindi ci ha messi alla guida di un tavolo che si occupa di monitorare questo fenomeno deteriore che ha preso piede nella nostra società. A questo tavolo con partner istituzionali, gli assessorati regionali alla sanità e all'istruzione e le università dislocate sul territorio piemontese, abbiamo varato una ricerca condotta sul territorio regionale proprio allo scopo di enucleare i lineamenti di questo fenomeno per poi favorire le azioni di contrasto specifiche. Ecco, invece un'altra attività molto interessante che abbiamo sviluppato è una ricerca su disinformazione e fake news che abbiamo rilevato su 7.000 studenti. 7.000 studenti hanno risposto. Sì, anche questo è un punto di cui noi ci vantiamo perché siamo riusciti a mettere in atto una opera efficace di contrasto a quest'altro fenomeno che sta ulteriormente prendendo piede nella nostra società che è il fenomeno della disinformazione e delle cosiddette fake news. Questa ricerca che ha abbracciato un platea così vasta ha avuto l'effetto di operare una capillare campagna di sensibilizzazione. Grazie allora al Vice Presidente Nargiso. Ricordiamo che per contattare il Corecom ci sono tutte le informazioni sul sito del Consiglio regionale. Buongiorno a tutti, sono Sofia Conterno dell'Associazione Amaranto. Amaranto si occupa di arte e terapia ed è un luogo dove diamo la possibilità alle persone di raccontarsi. Raccontarsi come? Raccontarsi attraverso l'uso dei materiali artistici, che sia pittura, scultura, fotografia, fumetto, video. La caratteristica dell'arte e terapia è proprio quella di non parlare, comunicare attraverso un medium che è quello che svela, come diceva Eraclito, le cose nascoste. Il disagio personale, i dubbi, magari traumi, oppure anche solo un malessere passeggero che le persone possono avere, ecco viene verbalizzato, tra virgolette, attraverso questo medium artistico. L'arte e terapia che cosa fa? Restituisce alla persona in una relazione continuativa, in un percorso che utilizza i diversi materiali, restituisce le parti positive rinforzando il nostro utente. Dove opera l'arte e terapia? L'arte e terapia opera in qualunque situazione, dicevo prima nell'arte del benessere, quindi nel disagio personale, oppure nelle situazioni più difficoltose, ovvero nelle dipendenze, nella psichiatria, negli abusi, nei traumi anche più profondi. Quello che è importante nell'arte e terapia, che è una disciplina normata da una legge del 2013, è avere un'ottima formazione, avere una particolare relazione con le persone che ci stanno di fronte. Io le chiamo persone perché pazienti e utenti non ci piace. Noi abbiamo questo luogo protetto, che è il nostro atelier a Maranto, dove io e le mie colleghe, e qui le devo ringraziare tutte quante, da Elisabetta, Betti, Flavia, Antonella e Cecilia, che collaborano con me e tutte quante a portare avanti progetti nelle scuole, nei carceri. Infatti quelle immagini che voi potete vedere in seguito, sono proprio di un percorso di accompagnamento all'uscita di un giovanissimo detenuto a fine pena, con una grossa paura verso il mondo che lo aspettava di fuori. Attraverso proprio l'utilizzo dei materiali, attraverso l'utilizzo del poter mettere e visualizzare le sue paure, le sue perplessità anche, ha potuto essere rinforzato, è riuscito a comprendere qual era il suo punto di forza, soprattutto, e infatti è riuscito a uscire e affrontare il mondo esterno. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio anche in particolare la mia scuola, anzi la nostra scuola, che è Artea, nella persona del maestro Achille De Gregorio, che è colui il quale ci ha individuato questo modello polisenico e soprattutto ci ha dato la possibilità di poter aiutare le persone che vengono da noi in un luogo dove raccontarsi. Grazie e a presto, vi aspettiamo. Buongiorno, se navigando in internet vedete delle notizie targate ecodallecittà.it riguardanti l'ambiente, siamo noi. Ma soprattutto se andando in giro a Torino vedete dei ragazzi e delle ragazze, magari con l'aspetto straniero, con delle pettorine rosse che recuperano frutta e verdura o anche altre cose nei mercati, siamo noi. La nostra associazione ecodallecittà infatti ha avuto nuovi impegni vorticosi negli ultimi anni, da quando il Comune ha benedetto l'iniziativa di aiutare la raccolta differenziata e soprattutto di recuperare l'ortofrutta in venduta a Portapalazzo e poi ci siamo allargati ad altri mercati, soprattutto nell'emergenza Covid, con dei progetti che hanno avuto dei finanziamenti pubblici di vario tipo e che hanno avuto anche un aiuto, una comprensione sia da parte degli ambulanti che da parte di vari cittadini e di altre associazioni con cui ci siamo collegati. Adesso, ho dovuto segnarmelo perché sono tanti i posti dove si interviene, tutti i giorni si fa questo recupero di ortofrutta in venduta e redistribuzione a Portapalazzo, in Piazza Foroni, in Corso Cincinnato, in Corso Palestro, in Borgo Vittoria, in Via Porpora e sono sei al giorno, tutti i giorni. Poi a giorno alterni, Onorato Vigliani, Corso Svizzera, Santa Rita e quindi arriviamo già a sette e mezzo. Inoltre ci sono altri mercati su cui operiamo al sabato con altre associazioni anche di volontariato e si chiama Il Sabato Salva Cibo. Per quanto riguarda l'attività principale, l'abbiamo sviluppata grazie al contributo di questi ragazzi profughi africani che abbiamo chiamato Ecomori. Anche la mia camicia è in omaggio a loro e adesso proviamo a sentirli un attimo. Buongiorno, sono Bubacar Giallo, vengo da Senegal, ho 23 anni, siamo gli Ecomori qui a Portapalazzo che recuperiamo l'invenduto. Ci sono anche i miei colleghi, lui viene dal Mali, lui dalla Nigeria e lui dal Marocco. Io vengo dal Senegal, Costa d'Avorio e lui in Nigeria e Omar Silla del Gambia, lo sapete tutti che è sempre qua. Facciamo, recuperiamo l'invenduto, quello che ci danno. Alla fine del mercato ci mettiamo tutto qui sul nostro banco e facciamo la distribuzione a chi ne ha bisogno. Facciamo anche recupero nei supermercati, andiamo lì con le nostre biciclette, recuperiamo, portiamo al mercato centrale. Poi il pomeriggio facciamo la distribuzione anche lì perché loro sanno già che facciamo anche la distribuzione di là. Abbiamo anche dei cuochi che cucinano quello che recuperiamo tutti i giorni. Devo aggiungere qualcosa di importante. Tutti i pomeriggi al mercato centrale, anche lì grazie a una collaborazione del comune, siamo presenti in uno stand e alcuni ragazzi africani fanno, cucinano, fanno una cucina Ecomora di verdura recuperata che poi distribuiamo soprattutto per chi lavora con il senza tetto. Andiamo quattro giorni alla settimana con un furgone ai mercati generali al CAT e quella si chiama Carovana Salva Cibo. Lì il rapporto poi non è diretto, cioè non distribuiamo direttamente con chi viene da qualche parte a cercare l'ortofrutta, ma distribuiamo associazioni e enti che a loro volta fanno la distribuzione. E sempre nella logica di questa economia circolare, alla fine settimana andiamo a recuperare un altro tipo di cosa che sono i libri al mercato di libero scambio di via Carcano. Tutto ciò ha un'idea sotto che è quella di circolare non solo l'ortofrutta da recuperare, ma di circolare anche l'integrazione dei ragazzi che sono con noi. E quindi speriamo anche col vostro appoggio di sviluppare queste attività, di salvare sempre più cibo e di integrare sempre più persone. Buongiorno, vi racconto brevemente che cos'è Anfas. Anfas è un'associazione di famiglie. È nata nel 1958 a Roma dove un gruppo di famiglie che non avevano visibilità perché la disabilità intellettiva era nascosta, erano invisibili. Quindi ha deciso di riunirsi per poter dare la voce a chi i voci non ce l'aveva. Quest'idea è piaciuta molto, tanto che nel 1959 già Torino nasce di nuovo, lascia la prima sezione Anfas e quindi oggi da più di 60 anni Anfas è la più grande associazione italiana di famiglie che si occupa di promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. Oggi è in tutta Italia, quindi qualsiasi famiglia che ha dei bisogni può rivolgersi alla sede Anfas di competenza nel luogo dove abita. Si è pensato di dare un luogo fisico dove le famiglie possono chiedere un supporto, un'accoglienza delle informazioni e quindi sono stati creati presso le associazioni Anfas gli sportelli SAI. SAI significa servizio, accoglienza, informazione ed è proprio questo luogo dedicato dove chi ha dei bisogni e non sa a chi rivolge si può chiamare. Verranno accolti, verrà dato supporto e le informazioni necessarie. Lo sportello SAI si configura oggi come un servizio pubblico, cioè non è riservato esclusivamente alle famiglie socie di Anfas, ma è condiviso con tutta la collettività, con le famiglie sul territorio che ne hanno necessità. Per far sì che il servizio sia dato a 360 gradi, oltre a una continua studio, quindi aggiornamenti, ci avvaliamo anche della collaborazione di un avvocato, di una pedagogista, proprio per dare questo servizio alle famiglie a 360 gradi. Si è cercato, un punto importante è quello dell'accoglienza, quindi quando una famiglia telefona ad Anfas si cerca sempre di dare un appuntamento per vederli fisicamente, perché sì, il telefono ormai è di uso comune ed è anche molto più veloce, ma il contatto familiare dove ci si vede in faccia e soprattutto si accolgono le persone, fa sentire la famiglia non in un mondo di tantissimi problemi, ma viene accolta, quindi il problema è condiviso, non diventa più un problema, è un bisogno e il bisogno e lo cerchiamo di risolverlo. Quindi Anfas, nello sportello sai, accoglie, ascolta e aiuta le famiglie che devono rapportarsi con le istituzioni, i servizi sociali, l'ASL, la scuola e il tribunale e cerca di dare un supporto, un aiuto, un accompagnamento a risolvere pratiche che magari c'è molta volontà di farli in autonomia, ma non sempre tutte le informazioni sono così facili da reperire e quindi noi cerchiamo di dare una mano su questo punto. Quindi diciamo, riassumendo lo sportello sai, dà aiuto, supporto a tutte quelle che sono le pratiche per l'accertamento dell'invalidità civile, dell'handicap, della 104, delle residue capacità lavorative. Aiuta e dà informazioni per l'inclusione scolastica, lavorativa, su tutti quelli che sono gli accertamenti per le varie disabilità, per i servizi sociali e soprattutto sulla tutela giuridica. Quindi noi iniziamo le pratiche per la tutela, per l'amministrazione di sostegno, per i rendiconti annuali, le istanze e consegniamo direttamente in tribunale. quindi un aiuto concreto. Per accedere allo sportello sai è facilissimo, basta chiamare la nostra sede, noi siamo a Turino in via Carlo Bossi 24, quindi una disponibilità massima e un aiuto a tutte le famiglie con molta buona volontà e cerchiamo di fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Grazie. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.